Mi piacciono tanto sono quelli del museo di esologia, perché mi piace quello che facciamo e mi vuole il tempo. La cosa che mi ha colpito è stato il serpente, il cronio della scimmia, perché mi sembrava un bambino. Mi sono ricordato dell'Africa, perché c'è un animale e lo so come si curano. Vedendo i cavalletti mi sono ricordato una volta, in cui ho chiesto a una cavalletta dove andare. Essa con la zampa mi ha indicato la strada. Nel mio paese i cavalletti si mangiano. Si prende uno stacchino, si cuociono, si mangiano e mi piacciono troppo.